L'amministrazione comunale del comune di Capaccio Pestum e la Sarim SRL hanno attivato un nuovo servizio posizionando sul territorio numero 10 stazioni in cui conferire l'olio alimentare esausto. Gli oli esausti sono una frazione dei rifiuti urbani che richiede una particolare gestione in quanto se smaltiti in modo scorretto o impiegati in maniera impropria provocano ingenti danni ambientali. Infatti se versato sul suolo l'olio usato penetra nel terreno contaminando la falda acquifera che fornisce l'acqua potabile e quella per l'irrigazione delle colture. Se disperso in acqua galleggia formando una pellicola impermeabile all'ossigeno determinando la morte di tutto ciò che vive al di sotto di essa. Se bruciato impropriamente l'olio usato immette nell'atmosfera sostanze inquinanti in grado di determinare danni alla salute umana e di incentivare il fenomeno del riscaldamento globale e di conseguenza quello dei cambiamenti climatici. Se sversato nel lavandino o nel water determina problemi nelle fognature e agli alimenti di depurazione a causa della solidificazione o della formazione di saponi. Il suo recupero invece permette di produrre lubrificanti biodiesel e saponi riducendo il ricorso a oli vergini o ad altre risorse naturali. È dunque assolutamente necessario procedere a una raccolta specifica degli oli esausti puntando a recuperarli tramite la raccolta differenziata. Il primo passo da compiere nello smaltimento di questa tipologia dei rifiuti è depositare gli oli esausti in appositi contenitori. Al fine di prevenire i problemi ambientali e tecnici dovuti ad un non corretto smaltimento degli oli e dei favorirne il recupero e la valorizzazione economica, il comune di Capaccio Pestum ha in essere un servizio di raccolta degli oli esausti commestibili mediante la modalità stradale e la raccolta dedicata presso l'isola ecologica.